Carissimi amici, buon sabato a tutti, manca un solo giorno, domani sera 10 ottobre presso mia sposa Centro Commerciale MD, grande evento filmato in Perocutur, quindi ci sarà il mondo sposa, il mondo uomo, il mondo bambini e il mondo invece cerimonia che sicuramente avrà tante sorprese ma soprattutto avremo due personaggi di grandissimo rilievo. Ci sarà la brand ambassador Rosalinda Cannavò per il mondo femminile e la parte maschile sarà rappresentata invece da un bravissimo attore nostro campano che è Gianluca Di Gennaro, quindi vi aspetto domani al salone isfilati di mia sposa, per chi non potesse essere lì di persona presenziale all'evento potrà seguire tranquillamente sulle pagine Instagram di Impero Couture tutto ciò che accade, l'intera diretta e sicuramente vedrete tante cose belle. Vi abbraccio tutti, vi saluto, vi voglio bene e come solito mio dire buona vita a tutti. Sono la ragazza con la valigia, sono appena arrivata a Napoli. Vi sto facendo vedere questa valigia perché non ve l'avevo mostrata, è la new entry di Mia Bag con la personalizzazione finalmente giusta RC e in abbinamento la borsa con la scrittina semplice nera Mia Bag in pelle super morbida. La valigia l'adoro, questa è perfetta anche come bagaglia a mano, anche se questa volta l'ho imbaraccata, sapete liquidi, cosucce, varie. Grazie, devo darvi una bellissima notizia, voi sapete che io sono la brand ambassador della Maison Impero Couture di Luigi Oletta. Benissimo, domenica 10 ottobre sarò presente alla sfilata di chiusura al mia sposa che si terrà al centro commerciale Medì. Quindi mi raccomando, vi aspetto in numerosi. Salve a tutti, io volevo darvi un appuntamento, volevo dirvi che il giorno 10 ottobre sarò ospite al centro Medì, alla fiera del mia sposa, ospite dello stilista Luigi Auletta per Impero Couture e quindi non prenderò parte alla sfilata finale che si terrà appunto il 10 ottobre. e vi aspetto lì e ne approfitto per mandarvi un saluto da tutto il mondo Impero Couture. Ci vediamo il 10. Ciao. Vedo una certa curiosità da parte di una persona, tanta tanta curiosità quando ti tuffi nel mondo Impero c'è sempre tanta curiosità. Sei preparata? Sei pronta? Prontissima, sempre. Sei super felice per stasera? Assolutamente sì, come sempre. Ok, quindi nel mondo Impero c'è sempre tanta gioia, tanto amore e felicità. Grazie. Un saluto a tutti voi dalla Maison Impero e da Rosalinda, la nostra brand ambassador. Ciao. Grazie a tutti. Buonasera, dopo lo stop work di oggi, ma in realtà non è che avevo tanto da raccontare perché facevo avanti e indietro tra casa e supermercato, ogni qualvolta mi serviva qualcosa, volevo mangiare qualcosa. Poi ho visto l'Italia e a proposito d'Italia, dopo la bella vittoria sul Belgio, in caso strano non li battiamo mai, ne parliamo stasera a Sport Italia, la solita ora, quindi alle 23 su Sport Italia, parliamo un po' di nazionale e poi un po' di tutto, come al solito. Quindi alle 23 su Sport Italia, ci vediamo dopo. Io adesso aspetto il globo domenicale, che è proprio un classico, quindi aspetto. E poi diciamo che la mia giornata parte dalla sera, perché oggi non ho fatto veramente nulla, ma sono contento di non aver fatto nulla e ho vissuto nella mia solita picrizia.